Il 14 e 15 e il 21 e 22 maggio a Lago Santo torna la Sagra della Fragola che nel 2011 compie 18 anni. La manifestazione, organizzata dalla Proloco di Lago Santo in collaborazione con il Comune e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della provincia di Ferrara, è stata presentata lunedì in Castello Estense a Ferrara. Molto ricco il calendario di eventi, a cominciare dalla disfida tra i migliori chef del territorio che domenica 15 a partire dalle 15 e 30 prepareranno piatti dove le fragole troveranno originali ed inaspettati abbinamenti. Altro momento di degustazione domenica 22 maggio alle 17 con la risottata alla fragola. Nei due fine settimana dell'evento sarà inoltre possibile acquistare fragole e piante di fragole da seminare il prossimo anno, visto che la zona è la patria del vivaismo per le piante di fragole. La Sagra sarà anche un'occasione per scoprire le bellezze naturali ed artistiche del territorio attraverso il percorso nella storia a contatto con la natura tra terra, sapori ed acqua, un viaggio in trenino elettrico o in bicicletta. Non mancheranno poi musica, spettacoli e commedie, raduni di auto e vespe e domenica 22 maggio ci sarà un suggestivo tuffo nel passato e nella storia agricola e culturale del territorio con Musica Racconto con le mondine Onda Gialla di Scardovari.